E non potevo non festeggiare con voi questo momento in diretta live. Bitcoin sfonda la resistenza a 12.000 dollari e si va a bloccare da intorno, diciamo, ad aria 12.500 ma la sta rompendo proprio in questo momento. Il problema e la domanda è reggerà almeno fino a fine settimana perché questo tipo di resistenza è talmente importante che il mercato deve riuscire a mantenere livelli superiori a 12.500 dollari anche entro fine settimana che in questo caso ragazzi si tratta di domenica, quindi siamo a mercoledì quando sto registrando questo video, quindi ci sono un po' di giorni di attesa. Ma l'altra novità ragazzi in questo momento è che ci ho dato un taglio ai miei capelli, no vabbè, allora a parte questo, per festeggiare questo momento ho deciso di smoltire un po' perché lo stisa mai questa quarantena dovesse ritornare ragazzi, poi mi sarei trovato stile caparezza con i miei capelli arruppati, erano veramente troppo, qualcuno di voi me l'ha anche detto ragazzi. Allora oggi andiamo a vedere un po' di cose sui grafici perché facciamo l'analisi della ciclica ma anche tecnica di Bitcoin per vedere un po' quello che sta succedendo. Non l'abbiamo fatta lunedì ragazzi, però io in questa settimana ho pubblicato un'analisi, un grafico sul mio canale Telegram dove indicavo che in sostanza eravamo già long e dove ho indicato anche cosa stava facendo il mio trading system preferito per cavalcare queste basi che utilizziamo in Academy anche in maniera automatizzata che è il trading system midterm ragazzi. Ho pubblicato che era long da 11.550 circa dollari e appunto per dare un po' un break news sul canale Telegram che in questi momenti è essenzialmente molto importante. Lo trovate in descrizione, è sempre gratuito ragazzi, però oggi andiamo a fare due cose. La prima andiamo a vedere Bitcoin, cosa sta facendo, dove può arrivare, cosa significa questo movimento. Andiamo anche a vedere Ethereum, perché non segue Ethereum in maniera estremamente lineare Bitcoin, sicuramente la più forte delle altcoin, le altre stanno andando abbastanza male, non ci sono altcoin tra le top 20, diciamo così, che sono importanti in questo momento che stanno leggendo molto questa fase. Andiamo a vedere perché, andiamo a rispondere perché e poi vi do un'altra break news in questo momento perché voglio festeggiare con voi questa fase. Quindi andremo a fare una live domani, domani ragazzi, quindi 22 ottobre, domani alle ore 18.00 andiamo in live con una live, quindi Ask me anything. Ragazzi, parliamo solo ed esclusivamente di Bitcoin, di questa fase e della sua ciclicità di lungo periodo, quindi dove possiamo effettivamente arrivare in questo momento. Vi ho dato questa break news, tra un po' sul canale uscirà anche il preview con la nostra live di domani, 22 ottobre, ore 18.00 Ragazzi, bene, ci spostiamo sui grafici, prima di farlo come sempre vi chiedo un pollice, ragazzi, mi servono i vostri mi piace, per aiutarmi un po' con YouTube, anche perché senza poi non mi date riferimento, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, ci spostiamo sul grafico di Bitcoin e iniziamo a dare un'occhiatona a quella che è la attuale fase, ragazzi, Bitcoin, incredibile, questa sua forza. Come sempre il re, quando sembra spenta, a un certo punto poi accelera e ci dà questi base. Allora, questa fase di up, relativamente a questo momento ciclico, non era una fase di up difficile che avvenisse, tant'è vero che nella mia Academy, anche settimana, ho più volte fatto delle analisi di approfondimento, dove ho indicato a tutti che se Bitcoin doveva in effetti andare a fare questo super pump, questi giorni erano esattamente quelli giusti. L'ho scritto anche su Telegram che ieri e oggi erano i giorni giusti per andare a rompere questa resistenza, dal punto di vista ciclico, perché poi, come vedete, come ho impostato qui questa fase ciclica, da qui in poi, quindi verso fine mese di ottobre, potrebbe incontrare degli ostacoli di natura tempistica, quindi di riposo, ragazzi, non parliamo di inversioni di trend, perché il break c'è stato. Ora, la grande, grande, grande battaglia che deve fare Bitcoin è reggere questi livelli, ragazzi, reggere intorno ai 12.700, come è adesso in questa fase, reggerli fino al weekend, ragazzi, deve stare su fino a fine settimana, importantissima questa cosa, perché la settimana di... relativa, insomma, alla Bitcoin è fondamentale, in quanto deve andarci a chiudere su questo grafico, ve lo faccio vedere già direttamente, ragazzi, il grafico di cui parleremo domani nella nostra live, ma, come vedete, è dal 2017 che non va al di sopra di questo livello, quindi se Bitcoin mantiene questo livello blu, ragazzi, poi avrà questa resistenza, adesso lo andiamo a vedere, sarà una close sui massimi storici di Bitcoin dopo l'anno 2017, dopo questa fase, quindi Bitcoin di nuovo come il 2017, beh, sì, potrebbe in effetti essere così e potremmo andare ad assistere ad una fase che, secondo me, ragazzi, potrebbe essere storica nei prossimi mesi. Andiamo a vedere però, al di là di questi festeggiamenti, tutte quelle che sono le resistenze che dovrà incontrare. Poi, soprattutto, vi chiedo, ragazzi, cosa avete fatto voi in questa fase? Siete long su Bitcoin, avete seguito il trend, trend is your trend, ragazzi, o vi siete fatti stuzzicare dalla menina dello short sui massimi, che erano comunque fattibili anche perché il mercato poteva, in effetti, virare, ma con grandi stop, ragazzi, quindi se avete fatto short spero siate in stop. Quindi scrivetemi nei commenti quello che avete fatto e come state cavalcando questa fase. Allora, ragazzi, eccoci. Prima livello di resistenza, il mercato sembra averlo già incontrato nella giornata di oggi, dopo questo break di quest'area qui, cioè il livello di 13.000 dollari, perché 13.000 e 13.500 è l'ulteriore scoglio definitivo, direi così, ragazzi, per andare a superare quelli che sono stati i massimi dello scorso anno. Massimi dello scorso anno che sono intorno ai 13.764 pezzi di Bitfinex, anche facciamo così, ragazzi, vi metto proprio il livello del massimo del 2019. Bitcoin dovrebbe arrivare, dovrebbe riuscire a superare questi massimi. Perché? Perché se tutto quello che sono stati i nostri calcoli in questi ultimi mesi sono giusti, questa fase di ripresa dal marzo in poi, questo inizio di nuovo ciclo annuale, ha la possibilità di rompere i massimi del 2019 per avvicinarsi a quelli che sono i massimi storici di Bitcoin del 2020, che sono però dei massimi da bolla, ragazzi, quindi bisogna considerare più che le shadow, quindi le parti up del mercato, forse è meglio considerare le close. Quindi quali sono, qual è la nuova area, diciamo così, di Bitcoin dopo questa resistenza di lungo periodo che sta breccando, ragazzi, è vero che è ancora presto per festeggiare, perché dobbiamo assistere a un break di questo livello, come vi ho spiegato, sia in close di natura, di natura dei lì, ragazzi, sia in close di natura settimanale, non possiamo prescindere da questa cosa, perché la resistenza è veramente importante. Cosa potrebbe succedere? Potrebbe succedere che questa close, se si avvicina alla fine della settimana, diventerà così realistica per tutti che tanti saliranno sul cavallo, e quindi potrebbero addirittura spingere ulteriormente il mercato anche sopra i 13.000. Questo è quello che dobbiamo mettere in considerazione, prendere in considerazione. Quindi primo livello di resistenza 13, poi c'è questa fascia, un'ampia fascia, che dobbiamo andare a considerare che va da 13 a 13.5, 13.7. Questa fascia potrebbe in effetti essere un punto di arrivo di questo movimento, perché poi c'è una piccola close ciclica che dobbiamo tenere in considerazione verso la fine del mese di ottobre. Ancora siamo alla 21 oggi di ottobre, quindi il tempo per fare nuovi massimi e mantenerci al di sopra dei livelli di resistenza 12.100, 12.500 di lungo periodo, fino alla fine della settimana ci sono. Quindi nulla da dire in questo momento, non c'è un segnale di inversione, direi che andare short è da pazzi. In questo momento potrebbe esistere un segnale di inversione a breve, tra qualche giorno ragazzi, perché potremmo andare a fare questo tipo di close. Ma non mi aspetto una grande forza ribassista, fermo restando che da fine mese, quindi dopo questa close eventuale ragazzi, potremmo assistere ad un nuovo impulso rialzista. Quindi Bitcoin davanti a una serie di possibilità che potrebbero in effetti innescare questo tipo di movimento poi nei prossimi giorni. Ma lo vedremo nella nostra AMA ragazzi, quindi non andiamo a fare un'analisi di lungo periodo, perché lo vediamo domani. Risponderò a tutte le vostre domande domani sera alle ore 18 sul mio canale. Ragazzi iscrivetevi quindi se non volete perdervi questa live. Andiamo però a vedere anche Ethereum, perché non sta andando come Bitcoin ragazzi. Io un'idea ce l'ho, ve la dico tra pochissimo. Intanto andiamo a guardare il grafico e vediamo cosa sta succedendo. Allora, su Ethereum abbiamo questa struttura ciclica e questa struttura anche di analisi tecnica. Quindi il trend intanto ragazzi è essenzialmente rialzista, quindi innegabile che ci sia questo trend di breve rialzista, però non ha la forza rispetto a Bitcoin. Questa cosa ragazzi esce fuori anche da alcuni indicatori macro che andremo a vedere nei prossimi video, indicatori macro sul mondo criptovalute, importantissimi anche per analizzare quelli che sono quello che è il benessere, diciamo così, del mercato nella sua interezza. Però Ethereum ha anche davanti a sé un livello di resistenza che comunque è stato attrattore negli ultimi periodi, cioè i 400 dollari. E sono qui ragazzi, questo livello di resistenza che poi è una fascia, come sempre non è mai un livello singolo, è una fascia, è importante ragazzi per Ethereum questo fascio. Quindi è possibile anche che un eventuale break, magari anche domani, di questa fascia possa spingere Ethereum di nuovo, vicino a questa zona. Fermo restando che sicuramente il mercato delle criptovalute altcoin, non Bitcoin, in questo momento ha avuto un po' una fase di break dovuta al respiro che la DeFi sta prendendo. Ragazzi, non credo che il settore DeFi sia finito, ma credo che semplicemente ci sia stato un break da tenere in considerazione, perché comunque era salito in maniera indiscriminata, quindi forse troppo. Perciò ci sta ragazzi, se Ethereum riuscirà a rompere quelle che sono i livelli di 400 dollari, probabilmente riuscirà ad avvicinarsi alle sue successive resistenze che sono 4,25, 4,50, fino a poi quella altissima, quindi nuovi massimi a 500, ma ce ne vuole ragazzi un po' di acqua. Dove siamo da un punto di vista ciclico per Ethereum, che ha un ciclo diverso da Bitcoin, perché è iniziato il 23 di settembre e siamo a metà del ciclo, quindi ha fatto metà di questa fase ciclica e dovrebbe spingere proprio nei prossimi giorni, probabilmente per cercare di fare una cosa di questo tipo e andare poi in chiusura non verso fine mese di ottobre, ma a metà di novembre. Quindi ci sono dei cicli completamente diversi tra Bitcoin ed Ethereum e questo la dice lunga anche sul fatto che probabilmente Bitcoin si sta di nuovo decorrelando per un po' di tempo da quelli che sono gli altri mercati. Lo ha già fatto e ve lo avevo accennato, ma lo ha già fatto per quello che riguarda i mercati old, quindi S&P 500 e Nasdaq 100. La sua struttura di decorrelazione sta continuando, ma lo vedremo nei video quando analizzeremo i macro indicatori, ragazzi, nelle prossime settimane sempre qui sul canale. questa cosa è positiva, ragazzi, potrebbe innescarsi una Burran come nel 2017. La cosa è possibile, sì, assolutamente sì, per quanto riguarda Bitcoin. Poi volevo dirvi anche un'altra cosa per quanto riguarda le altcoin. Allora, ho deciso di fare un video di analisi di quelle che sono le top 5 altcoin che la community di Trading On va a scegliere. Perciò, ragazzi, andatemi a scrivere nei commenti la vostra altcoin preferita, quelle che le 5 che riceveranno più commenti e saranno più indicate entreranno in questo nuovo video che andremo a fare per analizzare quelle che sono queste 5 altcoin e vedere che forza hanno contro Bitcoin. Non le analizziamo contro USD, ragazzi, perché vista la forza di Bitcoin in questo momento penso che non abbia molto senso. Quindi scrivetemi nei commenti le vostre top 5 altcoin, quelle che riceveranno più commenti entreranno nel prossimo video. E ci siamo, ragazzi. Allora, bene, per oggi è tutto. Stiamo assistendo ad una giornata storica. Vi faccio rivedere nuovamente questo capolavoro di Bitcoin. È fantastico assistere insieme magari a questi momenti, ragazzi. Sono momenti che accompagniamo ormai da anni. Allora, stiamo assistendo a una giornata storica. Speriamo che questa giornata si mantenga anche fino alla fine della settimana. Intanto, già oggi, pomeriggio, scusate, stasera, sarà già una giornata di close daily. Quindi vedremo intanto se ce la fa a livello daily. Ma poi è importantissima la domenica. Quindi la close di natura settimanale. Noi ci vediamo domani per le ore 18 sul canale Trading One per la live Ama. Quindi ci parliamo un po', ragazzi. Mezz'oretta mi chiedete un po' tutto quello che vi gira in testa relativamente sempre a questa fase di Bitcoin e analizziamo un po' il grafico di lungo periodo. Fatemi sapere se avete delle richieste particolari come sempre nei commenti. Iscrivetevi al canale e che dire? Forza e coraggio! Vedremo che succederà. Ciao a tutti!